Si diventa anziani più tardi, ma ci siamo alla prima, è la fotografia degli over nella nostra regione. Guardando le statistiche, due toscani su dieci hanno più di 65 anni, tra loro il 30% è ultra ottantenne, ma l'età non è tutto. Uno studio presentato a Firenze dalla rivista Neodemos del demografo Massimo Livibacci rivela che si diventa anziani più tardi. I settantenni di oggi hanno il vigore e la forza psicologica che un tempo apparteneva ai sessantenni. Come dire, invecchiamento biologico e invecchiamento demografico non vanno di pari passo. Se nel 1980 si entrava nella categoria dei cosiddetti vecchi a 65 anni compiuti, oggi l'asticella si è alzata fino ai 71 anni. Nonostante questo, oggi le malattie croniche compaiono sempre più in giovane età, un fenomeno che abbiamo approfondito con Gavino Macciocco, professore universitario ed esperto di politiche sanitarie. Abbiamo visto che si vive più a lungo, siamo più longevi, ma a differenza del passato c'è una parte sempre maggiore della vita che si convive con la malattia. Questo è un dato molto importante perché significa che ci si ammala anche da giovani di malattie croniche. Una recente ricerca ha dimostrato che già a 40-50 anni si contraggono malattie croniche che durano poi per moltissimo tempo fino all'esito e quindi con 40-50 anni di convivenza con la malattia. Sono principalmente tre le patologie croniche che colpiscono la maggior parte della popolazione, le malattie cardiovascolari, respiratorie e i tumori. Obesità e diabete rappresentano poi dei fattori di rischio fin da giovani. Il panorama della salute muta e così cambia anche l'approccio alle cure. Un tempo si puntava tutto sugli ospedali per curare gli aggravamenti delle malattie croniche e le malattie acute. Oggi dobbiamo affrontare come assistere e aiutare le persone con malattie croniche a convivere con la malattia e soprattutto a stare bene con la propria malattia perché si può stare bene con la propria malattia purché si riesca a gestirla bene. Non sempre con i farmaci, anzi molte volte i farmaci non sono utili o comunque dobbiamo usarli con molta parsimonia. E la Toscana ha il lavoro sul chronic care model. Il paziente è affiancato da un team di professionisti che lo aiutano ad affrontare la patologia ogni giorno con uno stile di vita adeguato e autocure continue. Le persone quando si ammalano di una malattia cronica devono imparare a gestirsela da sé e quindi devono imparare tutte le cose che servono per gestire una malattia. Quindi conoscere nei segni, imparare a misurare tante cose, misurare la pressione, misurare il diabete, misurare alcune cose fondamentali, avere la possibilità di avere un medico di famiglia che lo segue per bene, avere un infermiere che lo aiuta a gestire da sé la malattia. Si chiama chronic care model, è un modello di intervento che la regione toscana ha introdotto già da qualche tempo di cui sono beneficiari purtroppo soltanto una parte dei cittadini toscani. Al momento il chronic care model copre il 45% della popolazione toscana, ma sarà esteso nei prossimi tre anni. Qual è allora la ricetta giusta per stare in buona salute? La prevenzione passa anche dalla tuta sportiva e dalle scarpe da ginnastica. Con una buona attività fisica, con un'alimentazione adeguata, senza fumo e con poco alcol si riesce a vivere molto più a lungo. Lo strumento più efficace, molto superiore a tutti i farmaci è l'attività fisica. Quindi l'attività fisica fatta regolarmente, pianificata, quindi non così, ma almeno tre ore alla settimana di attività fisica sono una delle cose che servono di più. E con l'invito a fare più moto, l'angolo dello SPI chiude questa stagione televisiva, vi dà appuntamento all'anno nuovo e con l'occasione vi auguro anche buone feste.